Quest'anno un grande appuntamento con gli youtuber Romics, in collaborazione con Melagodo. Ci saranno veramente tanti tanti appuntamenti, a partire dal giovedì fino alla domenica. Sia nella sala grande, il pala Romics, da 3000 posti, e sia nel palco Muy Village, vi aspetteranno con tantissimi incontri dedicati per presentarvi i nuovi giochi. Ed avremo Gabbo DSQ, Johnny Crick, Drid, Just Ron, Frax, Deluxe, Anima, Sniper Laila, Lady Illamore e Founce. E quindi ecco, veramente vi aspettiamo con uno dei tantissimi appuntamenti di Romics, dalla 2 alla 5 ottobre in fine Roma.